Ciao e buonasera a tutti e ben ritrovati sul canale. Allora, sono contento questa sera di fare questo video perché ho visto degli articoli di stampa che sono appena usciti e quindi sono molto divertito dal fatto che evidentemente quello che ho postato pochi giorni fa ha centrato il segno. Sapete che su Facebook qualche giorno fa, sulla mia pagina professionale, avevo parlato e avevo fatto delle considerazioni rispetto a quello che Michele De Pascale e Raffaele Donini hanno proposto per valorizzare la professione infermieristica cioè un piano che, lo riassumo, prevede ovviamente la laurea specialistica, quindi la magistrale, scusate, quindi due anni in più prevede mediamente, insomma, poi non lo so, i dettagli perché questa è roba che andrà regolata a livello nazionale anzi in realtà è stata appena regolata incidentalmente quasi lo stesso giorno, il giorno dopo. Quindi un laurea magistrale e inserimento del vincolo, cioè il vincolo di esclusività c'è già, inserimento dell'indennità di esclusività e una serie di altre questioni. Ora, mi sono permesso di esprimere ovviamente quello che è il sentito di tutte le persone con cui lavoro quindi tutti gli infermieri con cui lavoro che mi è parso di capire non sia proprio in linea con quello che è stato proposto da De Pascal e da Donini e che oggettivamente ritengo sia più serio rispetto a quello che propongono De Pascal e Donini. Non perché non si possano fare determinate modifiche ma perché queste richiedono un miliardo, detto da loro, e quindi un miliardo più i tempi di realizzazione più tutto quello che vedete in una situazione nella quale gli stipendi sono sostanzialmente indecenti per il personale infermieristico del pubblico impiego è un po' too much da annunciare in una campagna elettorale tra l'altro regionale. Perché come mi viene contestato in questo bellissimo articolo di Rescue Press che ho stampato e che devo dire mi ha fatto un po' sorridere, mi viene detto che appunto le cose che dico io che ho argomentato io nel post sono relative al livello nazionale, CCNL, normative e quant'altro e ho detto beh perché quelle che hanno detto Donini e De Pascal di quale livello dovrebbero essere quindi andiamo per punti insomma. Che cosa succede? Vi invito intanto a leggere il post magari metterò il link nei commenti così lo potete trovare velocemente per farvi un'idea del livello a cui siamo arrivati. Allora viene detto che appunto leggevo con gusto scrive l'autore il post mio dicendo appunto che da presidente Sdame Emilia Romagna perorava la causa degli infermieri quindi già ma questo dovrebbero essere abbastanza contenti relativa al desiderio che tutti abbiamo di abolire il vincolo di esclusività quindi già qua mi dà ragione cioè evidentemente tutti gli infermieri vorrebbero poter abolire questo vincolo di esclusività. Sembra positivo detto così che un medico si espone per gli infermieri ma sembra molto strano perché la persona si è battuta contro il task shifting le due cose non sono una antitetica a quell'altra nel senso che ribadisco e ritengo e riconfermo per togliere qualunque dubbio che il task shifting è qualche cosa che non può essere fatto come è stato tentato di farlo cioè con mezzi mezzucci istruzioni operative prima aziendali poi le regioni si devono rivedere vanno a rimettere mano a tutto il diciamo il malloppo di istruzioni disomogenee tra i vari sistemi di emergenza per poi andare a fare a delibere che non sono condivise in tutto cioè alcune cose sono giuste assolutamente giuste e io per primo le condivido altre invece sono da discutersi ma il tema di principio è che evidentemente non è che in questo paese ognuno si sveglia la mattina fa un atto una delibera un'istruzione operativa e decide di trasferire competenze di una professione ad un'altra perché non è legittimo non è legale non funziona crea una serie di problemi e quindi bisogna che di tutti ne prendiamo atto tanto è vero che mi viene da dire la conferma negli ultimi giorni è proprio quella che per determinati ambiti addirittura oggi governo regioni eccetera eccetera dicano che servono delle lauree magistrali quindi non corsi di sette ore come in alcune aziende sono stati fatti per poi dire che il personale infermieristico poteva essere incaricato di compiti ulteriori compiti responsabilità tutti annessi e connessi a livello medico legale a livello di studio di competenza di è poi ovviamente tutto questo gratis ed amore dei sostanzialmente nel senso che per nessun riconoscimento né sui piani delle posizioni professionali vedi le altre specializzazioni e quant'altro né ovviamente sul piano economico allora quello che voglio essere molto chiaro nell'esprimere perché non c'è assolutamente nulla dietro a cui nascondersi la mia opinione è questa può piacere può non piacere può essere condivisa o meno gran parte degli infermieri la condivide è che prima si devono fare le norme dalle norme devono derivare i percorsi dai percorsi devono derivare poi i contratti e dai contratti ovviamente anche la parte economica e questo deve essere allineato e in regola per tutti gli operatori perché chi cerca di scardinare il sistema creando dei percorsi fuori da questa path come direbbero gli anglosassoni quindi fuori da questo percorso in realtà sta creando un problema in primis rischia di creare un problema in primis ai cittadini che dobbiamo assistere perché questo in alcuni punti lo sappiamo in italia è stato fatto a spese appunto di quello che mi viene scritto qui dei mezzi di soccorso realmente avanzati che anche questo articolo definisce essere di tipologia effettivamente con livelli assistenziali distinti allora se io devo per perorare una causa di task shifting andare a chiudere macellare ridurre mezzi con un'equip completa di medico infermiere perché di 118 stiamo parlando evidentemente in grado di dare ed erogare una serie di prestazioni una serie di manovre e vogliamo mettere sullo stesso piano mezzi di soccorso che non hanno un'equip intera e non si è mai visto nella storia non si è mai visto in nessun corso né nella cls americano né nel als europeo né in qualunque corso traumi che ci sia l'operatore da solo incaricato del lavoro che dovrebbe essere relativo secondo linee guide scientifiche a tutto un'intera equip allora questo non è nell'interesse dei cittadini che noi dobbiamo assistere forse nell'interesse dell'ego di qualcuno che vorrebbe arrivare a percorsi più facilmente di come invece è il lungo percorso che una democrazia prevede passando dal confronto parlamentare dal confronto tra le professioni dal trovare i punti di caduta quindi la ricerca di queste scappatoie via di fuga in realtà è un problema non solo e non tanto per gli operatori ma per i cittadini assistiti perché poi si assiste a quello che vediamo cioè parametrazioni distinte province che hanno un determinato livello di resilienza e resistenza allo stress perché possiedono una serie di mezzi con l'equip completa e una serie di parametri diversi magari nella provincia adiacente questo non è nell'interesse dei cittadini che dobbiamo assistere questo sì è un punto che anche da candidato politico ritengo sia fondamentale ritengo sia fondamentale che i cittadini di una regione ma in generale del paese io adesso sono candidato in una regione abbiano il diritto in tutto il territorio della regione dai monti alle valli di avere statisticamente chiaramente nei limiti dell'imprevedibile un livello di risposta omogeneo che preveda che su ogni paziente critico arrivi un'equip completa in grado di mettere in atto quello che le linee guida scientifiche sono in grado di mettere in atto se poi vogliamo dire che a qualcuno faceva magari più comodo o si voleva tentare di trasferire d'ufficio secondo atti di livello molto sotto ordinato rispetto a quelli che dovrebbero essere competenze di una professione all'altra io ribadisco e ripeto che non sono assolutamente d'accordo e quello che sento da molti degli infermieri con cui lavoriamo nei servizi di emergenza che nemmeno loro sono d'accordo perché chiaramente aver avuto sulle spalle o essere stati oggetto di un tentativo di task shifting che li ha caricati di responsabilità li ha caricati di problematiche li ha caricati di contenziosi iso stipendio senza una base magari normativa sufficientemente solida da supportare poi il contenzioso non gli ha fatto piacere non gli ha fatto piacere quindi io sono stato molto come dire felice sono stato felicissimo di leggere questi articoli perché significa una tale risposta da parte di determinati soggetti è una risposta che come dire la cartina al torna sole del fatto che avevo perfettamente ragione e che c'è il timore che tanta parte anche della componente infermieristica la pensi esattamente come me fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ovviamente chiederò che questo video venga pubblicato in replica anche alla testata giornalistica che ha scritto con l'articolo ciao a tutti